L'amministrazione comunale di Eboli procede all'abbattimento di debiti per circa 500.000 euro e libera risorse da investire nei servizi e nella vivibilità complessiva. Si tratta di un abbattimento raggiunto attraverso l'estinzione di otto mutui, tutti con scadenza tra il 2024 ed il 2028, contratti negli anni scorsi con la cassa, depositi e prestiti. Oltre all'estinzione dei debiti complessivi, per il comune c'è anche l'abbattimento degli interessi, che calcolando quelli in corso e quelli che sarebbero stati maturati, libera circa 60.000 euro annui per le casse comunali e dunque per i servizi ai cittadini. Proseguiamo nell'azione di risanamento, dice il sindaco Massimo Cariello, e contemporaneamente liberiamo risorse per dare più servizi ai nostri cittadini, alleggerendo le casse comunali dei debiti che abbiamo trovato.